Sole sul tetto di palazzi in costruzione, sole che battono sul campo di pallone, il tempo che tira avendo e poi magari fiora. Il bambino cammina che sembra nuovo, con le scarpette di gomma dura, a 12 anni il cuore è pieno di paura. Il bambino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, un giocatore che lo vedi dal coraggio, dall'altronismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai e che hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro un bar, che sono innamorati da dieci anni con una donna che non hanno amato mai. chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Non capì che dal primo momento l'allenatore sembrava contento, allora mise il cuore dentro le scarpe e corse più veloce dal vento. che si è un pallone che sembrava stregato, accanto al piede lo teniva incollato, dentro nell'aria e tirò e senza guardare il portiere lo lasciò passare. il bambino non aver paura di sbagliare a calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altronismo e dalla fantasia. il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette, quest'altra non giocherà con la maglia nero 7. Grazie a tutti Rimel, grazie.